Buongiorno ragazzi, sono alla provincia Catania di Granmighele, stamattina ho fermato l'assessore di Granmighele per un aiuto per lavorare, mi ha detto di fare la domandina, non solo dice l'ufficio, dice ricollocamento loro si sono andati a prendere la collezione e si sono sbattute altamente le persone che hanno bisogno ragazzi dobbiamo fare venire la notizia al comune di Granmighele per aiutare le persone che vogliono lavorare perché sono costrette di dire le persone a morire di fame o andare a rubare e loro se ne sbattano, l'assessore di Granmighele se ne è fregato cosa ho detto io comunque chi vuole lavorare, facciamo venire la striscia alla notizia al comune di Granmighele e facciamo sciopero, se volete aiutare le persone che hanno bisogno di lavorare mandiamo la striscia alla notizia e quando vedete questo cosa che ho fatto io chi ha bisogno di lavorare penso che accoglierà questa pubblicazione che sto facendo io quando hanno fatto le votazioni hanno fatto promesse di lavoro, lavoro, lavoro ma non aiuta nessuno le persone che purtroppo sono costrette a fare brutte cose perché hanno troppo bisogno aiutiamo a lavorare i ragazzi che hanno bisogno di lavorare alla città di Granmighele se qualcuno vuole lavorare, se non vuole lavorare muore di fame ragazzi ora io vi dico una cosa, quando hanno fatto il al comizio per le votazioni tutti hanno fatto solo promesse e le promesse non serve? aiutiamo Granmighele perché è uno stato di schifo, pensano solo per loro pensano andare a fare la colazione, certo loro stanno bene e se ne fregono a dei cittadini non sono solo io a che parlo, sono tante persone che sono senza lavoro